Federico Bernardeschi e l'ex Geffina Veronica Ciardi, dopo gli europei di calcio dovrebbero sposarsi. A rivelarlo è il giornale La Nazione. Ciardi e Bernardeschi si sono fidanzati nel 2016 e dopo un periodo di crisi nel 2017 sono tornati insieme. Nel 2019 hanno avuto una bambina, Deva. Veronica Ciardi è stata una delle concorrenti del Grande Fratello 10. Per Federico Bernardeschi quest'estate sarà molto importante, perché, oltre a 2020 euro, per lui sono previste le nozze con l'ex Geffina Veronica Ciardi. A rivelarlo è La Nazione. Per il giocatore bianconero e l'ex concorrente del Grande Fratello il matrimonio è previsto per il prossimo luglio, subito dopo la fine degli europei di calcio. Sulle nozze al momento non si conoscono i dettagli. Non è stata infatti ancora svelata la data precisa del matrimonio. Come riportato dal Corriere dello Sport, sembra essere nota la location della cerimonia. Revista Carrara, al Duomo di Sant'Andrea. Bernardeschi e Ciardi si sono conosciuti a Formentera nel 2016, grazie ad alcuni amici in comune. Ben presto il loro colpo di fulmine si è trasformato in una relazione, con tanto di dedica musicale, Firestone di Kigo e Canrad Suel, su Instagram del campione della Juventus. Tuttavia, complice la volontà di Veronica di tenere quella storia lontana dai riflettori, di loro si sa poco. Nel 2017, dopo meno di un anno, l'amore di Ciardi e Bernardeschi sembrava essere giunto al capolinea. Queste le parole di Veronica su Instagram, la nostra storia è finita in modo sereno e condiviso. Non verrà affatto del gossip e non si speculerà. Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma cinque mesi fa. Ci lasciamo nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell'amore. Ci saremo sempre l'uno per l'altro. E un ragazzo speciale, puro sincero, con la testa sulle spalle. Bernardeschi, ricevuto l'addio social dalla compagna, non credetti a quelle parole e sotto a quel post commentò, tu sei unica e speciale. Per sempre e comunque. Alla fine quel per sempre è dato i suoi frutti, Federico e Veronica, sono ritornati insieme e nel 2019 hanno avuto una bambina, Deva. Intervistato su Instagram dall'appo Elkan, ha confidato che la sua compagna Veronica Ciardi gli ha regalato la gioia più grande della sua vita. La figlia Deva, mia figlia si chiama Deva, perché è un nome che ha voluto molto mia moglie. Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome Indy, che significa Dea della Luna. Quando mia moglie me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì. Per me la famiglia è molto importante, perché ti trasmette quei valori che poi ti porti avanti per tutta la vita. Io voglio trasmettere a mia figlia dei valori, così come mia moglie le vorrà trasmettere i suoi. Tra le mura della casa del grande fratello 2010, Veronica Ciardi è stata una delle protagoniste di quella edizione, soprattutto per le sue storie amorose con i concorrenti del reality. Dapprima si è legata a Massimo Scattarella, poi ha avuto un flirt con Mauro Maren e infine un rapporto sappico con Sara Nile. Dopo l'esperienza al reality show di Canale 5 Ciardi ha ottenuto qualche piccolo ruolo come attrice ed è stata inviata di pomeriggio 5. Ben presto però ha scelto di ritirarsi a vita privata per tenere la sua vita al riparo dai riflettori.